La classifica finale della sezione di giornalismo 2020 per la non edizione del premio internazionale 8 milioni è stata composta attraverso una libera votazione effettuata su un sito web più i voti espressi da 4 differenti giurie. Il totale dei voti espressi è stato di 145 e questo è il risultato finale. La classifica finale della sezione di giornalismo 2020 della non edizione del premio internazionale 8 milioni 2020 ideato da Bruno Mancini ed organizzato dall'Associazione Culturale da Ischia L'Arte di ILA con la collaborazione della casa editrice di Sextante di Maria Piaciaghi dell'attestata giornalistica I Dispari di Gaetano Di Meglio e dell'associazione algerinna ADA di Dalila Buscialfa. Quinto premio Codice G09 Sascha Salastano che ha preso 13 voti Quarto premio Codice GO08 Michela Zanarella che ha preso 17 voti Terzo premio Codice GO10 Anna Alessandrino che ha preso 17 voti Secondo premio Codice GO05 ha preso 26 voti Daniele Bartosci quindi vince il premio della sezione giornalismo 2020 della non edizione del premio internazionale 8 milioni con voti 28 e il codice GO07 Emanuela Di Stefano Complimenti alla vincitrice e anche a tutti i finalisti Bravissimi complimenti a tutti Bravissimi Ora vi leggo l'articolo vincitore del primo premio GO07 Emanuela Di Stefano La recensione è di Letizia Cagliazzo Essere sedotti dal cromatismo e dai fascinosi effetti della digital art di Letizia Cagliazzo è fatto ormai noto ma senza alcun dubbio il suo universo è un magico gioco non solo di creazioni visive ma di simbologie che nella nuova dimensione virtuale si ritrovano ad essere libere espressioni vitali in cui l'immaginazione trova la sua completezza con la realtà Baciata dall'ispirazione trova la sua massima espressione nel fruttuoso connubio tra arte e tecnologia dichiarando chiaramente la poetica di una mutevole creatura che spazia tra le diverse tecniche soggetti capace di sorvolare una dimensione che appartiene soltanto a chi sa ascoltare la melodia infinita del proprio sentire con estrema eleganza e semplicità comunicativa il suo linguaggio rientra in quello che potremmo definire il filone delle nuove creazioni visive una terza dimensione plasmabile dallo slancio percettivo dell'artista stessa un passaggio dal reale fino al raggiungimento di un'opera unica ed irripetibile una tecnica quindi quella del computer art che non ha limiti esattamente come la mente di Letizia che riesce a scatenare una vera e propria rivoluzione dell'immaginario collettivo osservando le sue opere si percepisce libertà e impulsiva imprevedibilità dove tutto è possibile un camaleonte dell'arte contemporanea che non rifiuta il richiamo delle origini ma le enfatizza facendo le proprie esattamente come Marcelle Duchamp in L-H-O-O-O-Q più nota come la gioconda con i bassi e così che anche la Cagliazzo fa sua l'arte classica palesandosi nelle opere bimbe insieme la finestra preghiera la vero incellista il vecchio e il mare esempi chiari di coinvolgimenti della propria sensibilità e conoscenza di coinvolgimento